Ciao a tutti cari amici e amiche dello scrigno dei segreti tv, grazie per essere ancora in nostra compagnia. Come vi avevamo annunciato in un video soltanto pochi giorni fa, Demetho Zdemir, la coprotagonista di Daydreamer, le ali del sogno, arriverà presto in Italia. Da lì è partita la caccia alla motivazione per il quale Demetho arriverà nel nostro paese. Demetho Zdemir dovrebbe arrivare in Italia a maggio. Questa data coincide esattamente con la data di inizio delle riprese della nuova miniserie tv Sandokan, con protagonista Jean Yaman e altri attori d'eccezione come Luca Argentero. Tutto ciò non sembra essere una coincidenza, ma lascia ben sperare che la carriera lavorativa di Jean Yaman e Demetho Zdemir potrebbe nuovamente incrociarsi in una nuova serie televisiva, stavolta però tutta italiana. Tutto sembra collegarsi nel modo giusto in quanto il ruolo di Lady Marianna calzerebbe a perfezione a Demetho, per non parlare di quanto sarebbe apprezzata la coppia Jean Yaman e Demetho Zdemir dai fans, che non aspetterebbero altro. Scrivici la tua giù nei commenti, iscriviti allo scrigno dei segreti tv e attiva la campanellina per essere tra i primi a conoscere le nuove news e anticipazioni. Grazie e a presto!